Buongiorno a tutti, sono Carlo Boccadoro, direttore artistico della stagione di concerti della scuola normale di Pisa. Continuo a proporvi musica da ascoltare, piano piano le stagioni stanno riaprendo, noi ancora no, però sono moderatamente ottimista per il futuro. In attesa di darvi buone notizie, oggi vi parlo di un compositore molto interessante, che era anche molto popolare da noi fino agli anni 60 e la cui presenza poi è misteriosamente scomparsa delle nostre programmazioni, sia sinfoniche che cameristiche, in Italia non si segue praticamente più, ma era molto famoso invece anche da noi, ed è Arthur Oneger, un compositore svizzero, lui è autore di sinfonie bellissime, ad esempio, di cui esistono molte registrazioni, la più famosa è la sinfonia liturgica, ritrovata anche una bellissima incisione di Kajan, qui l'interlina, ma c'è anche un'integrale stupenda di Charles de Troyes, anche la seconda sinfonia, quella per tromba e archi, magnifica. Oneger era un compositore un po' atipico, perché lui faceva parte del cosiddetto gruppo dei sei, dei sei ragazzacci che negli anni 20, l'ala di Eric Satie, prendevano in giro tutto e tutti, se la prendevano con Debussy, con Ravel, erano amati di Stravinsky, si rifacevano al jazz, al musical, al circo, facevano una musica, beffarda, assolutamente antiromantica, eccetera. Però, pur essendo lui in questo gruppo, in realtà la sua musica, con questa estetica del circo, del musical, delle farsi quattro risate, non c'entrava niente, perché Oneger ha un sacco di doti, ma non ha assolutamente il senso dell'umorismo. La sua musica è sempre molto, molto seria, molto densa, molto intensa. Lui si rifaceva a tradizioni tedesche che, ad esempio, gli altri cinque detestavano. Era un ammiratore di Wagner, amava Brahms, amava Schumann, gli autori che gli altri vedevano come fumano gli occhi. E comunque la sua musica è sempre molto, molto, appunto, un'esperienza molto intensa e amava le grandi forme, i grandi oratori, un oratorio famosissimo si chiama le Roi David. E queste erano pagine che anche da noi venivano eseguite un sacco di volte e che tuttora continuano ad essere molto, molto eseguite all'estero. Non si sa perché da noi, piano piano, la sua produzione è scomparsa. Lui era uno dei maestri, insieme a Mio, della politonalità. Ma mentre Mio la usa in modo, appunto, beffardo, sarcastico, facendo cozzare tra di loro, delle tonalità diverse, con risultati a volte grotteschi, a volte umoristici, One Girl la usa sempre in maniera molto espressiva. È un modo di allargare la tonalità precedente. Lui non è mai stato un modernista spigolosissimo. La sua musica ha sempre avuto una maggior morbidezza d'ascolto. Infatti, Dei Sei era quello che aveva più successo di pubblico. Ed è uno di quelle che all'estero tuttora continuano ad avere più successo di pubblico. Perché è una musica, comunque, di fortissima comunicativa, molto immediata. Sono gesti molto forti, molto chiari. E ha queste predilezioni, appunto, per le grandi forme corali. Quindi, dopo il successo enorme che ebbe con questo oratorio del Roi David, negli anni 30, con una piccola poi revisione, negli anni 40, ne scrisse un altro che è il brano che vi propongo oggi, che è Jean d'Arc Rouchet, ovvero Giovanna d'Arco al rogo, che è un altro oratorio, naturalmente serissimo, anche questo, sul testo del grande poeta Paul Claudel. Questo è un brano che anche da noi aveva avuto un successo grandissimo. Era stato programmato dappertutto. Negli anni 50 ce ne fu una versione memorabile con Ingrid Bergman, perché c'è un'attrice che recita il testo parlato, più ci sono i cantanti, i solisti di canto e il coro, una grande orchestra. E la parte della protagonista era fatta da Ingrid Bergman, al Teatro San Carlo di Napoli, con la regia di Roberto Rossellini, quando appunto era il periodo in cui loro stavano assieme, avevano fatto Viaggio in Italia, Stromboli, quei film memorabili. E lo fecero con la direzione musicale di Gianandrea Gavazzini e ne esiste una registrazione veramente, diciamo, pirata quasi, pubblicata qualche anno fa della Fonecetera, che però è un documento storico, che fa vedere l'interesse. Questa musica, questo oratorio, viene fatto dappertutto, nei più grandi teatri italiani. L'idea della figura di Giovanna d'Arco, che naturalmente rappresenta la Francia, quindi l'idea di Claudel nel 1933, quando lui scrive questo testo, è un testo naturalmente molto patriottico, poi in quel periodo, lo sappiamo bene, c'eravamo in piena espansione nazifascista, e quindi è anche una cosa simbolica nei confronti della Francia. Oniger, anche qui, fa un gigantesco affresco. È un oratorio che dura un'ora e venti minuti, quindi comunque lui non è mai uno che la tira molto per le lunghe, se considerate l'ampiezza poi di tutta la storia. E alterna appunto dei momenti in cui ci sono delle lunghe parti recitate, con il sottofondo dell'orchestra, il dialogo fra l'attore, l'attrice e l'orchestra, con delle parti appunto corali bellissime. È un'orchestra sterminata, grandissima, piena di colori. Questo brano, appunto, all'estero non ha mai smesso di girare, è in repertorio dappertutto. Da noi, dopo essere stato fatto tantissime volte, è quasi impossibile sentirlo. Io ve ne propongo un'edizione molto recente, uscita in questo bellissimo, questo in realtà è un CD solo, ma ha un cofanetto magnifico con un libro dentro, è una cosa di super lusso, fatto dalla Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam, che ha aperto da poco una propria etichetta discografica, non solo dei dischi, ma anche di video, DVD e Blu-ray. Bellissima! Adesso, ad esempio, è uscita una magnifica esecuzione della Salome di Strauss, diretta da Daniele Gatti, ma si trovano tutte le sinfonie di Mahler con nove direttori diversi. Insomma, stanno facendo delle cose magnifiche e i dischi sono presentati benissimo, sono registrati magnificamente. Poi sappiamo che la sala del Concertgebouw ha una delle acustiche più belle del mondo. L'orchestra del Concertgebouw è una delle più grandi, stellari orchestre dell'universo, secondo me, a livello dei Berdini fino alla monica. E il direttore, questa volta, è un vero specialista, grande appassionato della musica di reggae, si chiama Stéphane Deneuve, che è un direttore poco conosciuto da noi, ma che è bravissimo, che ha lavorato per anni con l'orchestra della Scottish Orchestra a Glasgow, che dirige le più grandi orchestre del mondo. Come si vede qua nella foto, vedete qui nella sala del Concertgebouw, c'è questa enorme orchestre, questi due cori in mezzo, c'è l'attrice che fa Giovanna d'Arco. Anche questo, ovviamente, è una musica serissima, non solo perché sul tema c'è poco da ridere, l'unico momento, chiamiamolo umoristico, sarcastico, è quando c'è la scena del processo a Giovanna d'Arco in cui uno dei giudici viene raffigurato come un maiale. Allora la musica prende una specie di parodia del jazz, del reggae time, che era una musica che amava molto O'Honegger, e quindi l'orchestra si trasforma per un attimo in una specie di piccola orchestrina, un po' jazz, per prendere in giro questo giudice maiale, chiamolo così. Ovviamente, essendo Claudel un poeta evidentemente religioso nei suoi temi, l'idea della trasfigurazione finale del rogo assume una valenza spirituale altissima. Claudel, fra l'altro, aveva lavorato tantissimo con Mio, ha scritto libretti di un sacco di opere liriche di Mio, era proprio legato anche lui a questo giro del gruppo di sei. Quindi che musica è questa di O'Honegger? Era una musica, prima di tutto, magistrale come scrittura. Lui ha un controllo dell'orchestra sinfonica, tutto degno di Bartok, di Stravinsky, non ha niente da meno. È una musica, appunto, che da subito mette in questa atmosfera, è una musica quasi cinematografica, perché bisogna dire che O'Honegger, nella sua vita, per motivi anche proprio economici, ha scritto molte colonne sonore, cosa che in Francia non ha aiutato la sua reputazione di compositore serio, ma che in realtà lui è uno dei grandi del Novecento, anche se ha scritto tanta musica da film. Però dal film lui ha imparato il gusto del montaggio, del non perdere tempo, anche in questa storia. Quando comincia siamo già in mezzo all'azione, c'è già subito lei che denuncia queste visioni mistiche che ha, e il coro che gli risponde, l'orchestra, le scene sono tutte tagliate molto veloci. Io mi ricordo di aver letto tanti anni fa in uno dei vari libri sul gruppo dei Sei, dove lui diceva che proprio era molto influenzato dal fatto che aveva lavorato per il cinema, perché il cinema gli aveva insegnato appunto a non tirarla in lungo, a non perdere tempo. Non è una vera e propria opera questa, anche se è stata presentata anche in forma scenica. In genere viene fatta appunto in maniera così semiscenica, diciamo così. Ci sono un cast molto ampio, perché ci sono diversi attori, uno, due, tre, quattro attori, ognuno delle quali fa più parti. Alcuni fanno addirittura uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette parti recitate diverse, e poi ci sono cinque solisti, due soprano e un mezzo soprano tenore basso, due cori, il coro di bambini, quindi è una cosa veramente immensa come mezzi richiesti. È molto maestoso anche il clima fin da subito, è un grande affresco, è come entrare in una chiesa affrescata con un sacco di figure. E in questo caso ci sono anche riferimenti naturalmente ai cori gregoriani, a un certo misticismo musicale che fa sì che questo pezzo, rispetto a Rodavide e rispetto anche alle sinfonie, la musica sia più scarna dal punto di vista delle dissonanze, è meno pungente di altre cose di Omega, è meno violenta in certi momenti, non è meno drammatica, attenzione, è molto drammatica, è molto forte fin da subito, però è più morbida appunto e ci sono questi arcaismi che derivano appunto dall'utilizzo di modi derivati dal gregoriano, dai richiami alla musica del periodo in cui è usata Giovanna d'Arco. Però, fra l'altro, questo bellissimo libretto ha tutto, oltre a un ottimo saggio interduttivo, ha tutta la trama e tutto il libretto in varie lingue, quindi si può seguire tutta la storia con grande chiarezza e quindi si vede com'è tagliata veramente con il ritmo giusto e una volta che è cominciato è veramente molto difficile non arrivare in fondo, non è mai noiosa, anche quando appunto è molto drammatica, molto seria, non è mai pesante, non è mai pedante, non è mai accademico, Honegger è sempre francese in questo senso, tiene sempre il senso della misura. Veramente mi è incomprensibile come mai il pubblico italiano non sia permesso più quasi ascoltare, è anche molto difficile trovare interpreti che abbiano Honegger in repertorio, anche volendo programmare della musica da camera, lui ha scritto delle bellissime sonate, perché lui ha piano forte, sonate per viola e piano forte, c'è tanta musica, però difficilmente qualcuno ad esempio me la propone per la stagione e anche se chiede di fare qualcosa è molto difficile, non ce l'hanno in repertorio, non l'hanno studiato, non lo conoscono, è un musicista da noi un po' dimenticato, è davvero un peccato perché è un grande maestro. La stessa cosa è successa ad alcuni del gruppo dei sei, naturalmente, quello che non è mai uscito dal repertorio è Poulenc, anche Mio ha avuto i suoi alti e bassi, però comunque l'esempio di Mio trovate una quantità incredibile di dischi della sua musica, mentre invece Jebete et Ferre non è tanto eseguita e Georges Ric e Louis Duré in particolare non sono più eseguiti per niente, quindi è anche normale che la storia faccia su e giù, però nel caso di Neguer è veramente un'ingiustizia perché forse gli viene fatta scontare adesso la troppa popolarità che ha avuto quando era in vita, chi lo sa. Comunque questo pezzo è uno dei pezzi più belli del primo novecento, della prima metà del novecento ed è un classico ed è un peccato siccome non credo che capiterà l'occasione ancora per molto tempo di ascoltarlo dal vivo, per fortuna la RCO ha fatto questa magnifica edizione psicografica e quindi Giovanna d'Arco Arrogo, Jean d'Arco Boucher di Paul Clodell e Arthur Oneger nell'esecuzione della Royal Conservable Orchestra di Amsterdam diretta da Stefan Deneuve Il prezzo è quello di un'ormale cd nonostante questa confezione è lussuosissima io vi consiglio veramente di ascoltarlo e sarei molto curioso se un giorno avremo l'occasione di incontrarci a Pisa che cosa ne pensate perché è una musica che veramente non merita di essere dimenticata è una musica molto molto espressiva è sempre piena di significato e forse di questi tempi anche visto l'argomento non del tutto invecchiato anzi per niente una buona giornata a tutti e alla prossima settimana